Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo qui al primo Grand Prime, al Grand Prime del Bahrain, signori, siamo pronti per le qualifiche, non so perché mi ha sparato già subito qui in assetto auto, non va bene, non possiamo fare nulla, qua sono le gestioni dei veicoli, siamo già in qualifica, signori, mi ha sparato direttamente alle qualifiche, io ho fatto le prove libere, ho fatto solamente le prime prove libere, le altre due le ho saltate, e sono andato direttamente alle qualifiche e lui mi ha mandato direttamente qua, signori. Quindi siamo pronti e carichi per, non so che cazzo la devo fare, vai alla pista, ok si parte subito così, mammoni a tappo, subito la nostra Maullo Racing, con nostro Papo Maullo, attenzione, siamo già ultimi, siamo terzi, dai andiamo bene, andiamo bene, ricordiamo abbiamo messo il livello di difficoltà a 58 se non sbaglio, 58, finita questa gara valuteremo se siamo troppo troppo, o se ce la possiamo tenere, Già siamo ultimi, signori, guardate, le cariche vicini siamo, noi siamo ultimi, però va bene, però va bene, con calma e sangue freddo, io ho fatto delle prove libere che, allora, per l'inizio non sono andate proprio malissimo, però poi ci siamo un attimino persi di casa, E mi sa che se stiamo continuando a perdere di casa, praticamente, continuiamo a essere ultimi, perdiamo su, su, Verstappen che adesso è primo, si, partiamo presentamente, mi sa che 58 come livello di difficoltà non è proprio il nostro livello giusto, Con il quale possiamo avventurarci nella prima stagione di Formula 1, qui andiamo un attimino per frasche, dai, 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 non possiamo mettere, no, siamo ultimi, mamma mia, malissimo proprio, malissimo proprio, però va bene, con calma, con calma, giustamente, è il primo campionato, signori, già se non andiamo a sbattere a muro e riusciamo a portare la macchina a casa, già sarebbe, secondo me, tanta roba, ecco, beh, perfetto, ottimo così, L'alettone l'abbiamo rotto, signori, in qualifica, l'alettone l'abbiamo rotto già in qualifica, bene, ottimo, perfetto, finiamo il nostro giro così da turisti, che, calmami, che inizio sbaglia, che inizio brutto, signori, perfetto, con le qualifiche completate, noi ancora siamo a metà gara, però va bene, va bene, ci rifacciamo in gara, signori, ci rifacciamo in gara, li superiamo tutti, li superiamo tutti in gara, signori, belli, carichi, come se non ci fossero domani, Carichi come se non ci fossero domani, ottimo, prime qualifiche del ritorno in Formula 1 della Molo Racing, siamo a 22esimi, ci sta, ci sta, siamo gli ultimi arrivati e mi sta anche bene, il nostro compagno di squadra è penultimo, ok, ci hanno dato 2 secondi e 6 a lui, 12, vabbè, io ho fatto il testa coda, quindi mi sta anche bene, mi sta anche bene che mi abbiano dato 12 secondi, dobbiamo un attimino capire di che morte morire, signori, perché mi sa che il 58 livello di difficoltà è un poco alto, però con calma, il primo gran premio, signori, non voglio vincere il mondiale, il primo gran premio, deve essere una scalata lenta e continua, ma dico, spero di riuscire a fare più di una stagione e portarci avanti bene bene questa, questa carriera, però, però, sapete, se dobbiamo fare tutta la gara, a vederci ripassare così da lontano e noi da Girozolò, per ultimi non è proprio quello che mi aspetto che mi carbi, che mi carbi, perciò, va bene, workstation, andiamo alla gara, signori, andiamo alla gara, 5 giri, facciamo le gare di 5 giri, per essere più veloci, perché sennò vengono video molto lunghi, quindi, intanto, andiamo con le gare di 5 giri, se volete quelle da 25, le valuteremo assieme, intanto iniziamo la stagione e vediamo un attimo come, come la va, come la va, come la va, io non giocavo a Formula 1, forse da, da, da quei, da quei video che facevo su Formula 1 2020, ok, ci siamo, bello, bello il Qatar, signori, vediamo la griglia di partenza, vediamo la griglia di partenza che ci sta, va bene, sì, dai, facciamo farmi la griglia di partenza, la griglia della gara di oggi, la griglia di partenza, va bene, basta, appena primo, Leclerc secondo, 1-31 addirittura, 1-31 non ci arrivavo nemmeno, se mi montavano un propulsore aggiuntivo dietro, Perez Sainz, Hamilton Russell, Alonso Bottas, Gasly Norris, Ocon Magnussen, Mick Schumacher e Zu, Zunoda e Albon, Ricciardo Vettel, Stroll Latifi e gli ultimi due, perfetto, va bene questi signori, 1-43 ho fatto, mamma mia, dai, 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 che siamo carichi, l'ultima fila non è la posizione migliore per iniziare una nuova stagione, quindi cerca di migliorare nel corso della gara, va bene Fernando, Ferdinando come cazzo lo ti chiami, e abbassa le lezione, tieni premuto X, raggiungi il team, ok, 3, 4, 5, diamo se signori, partiti, partito il primo campione di Formula 1, signori, siamo tornati e ci stanno a lasciare, ma noi non ci facciamo lasciare, noi non ci facciamo lasciare, li superiamo tutti alla prima curva, li, 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 li molliamo tutti alla prima curva, 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 che dobbiamo fare anche noi però, ma, fa, 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 pu, cianga, pu, cianga, avvertimento, collisione col gasly, va bene, Abbiamo preso la botta, ma non è importante Abbiamo perso anche un pezzettino di allettone Ma non è importante, signori Siamo risaliti, l'importante è questo L'importante è che siamo risaliti Dai così che andiamo a prendere Magnussen Magnussen, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua Siamo risaliti tantissimo, questa è un'ultima cosa Dai, 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 dai Dai che riusciamo a tenerli Dai che riusciamo a tenerli Su, prenda, 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 prenda Mamma mia, che scorrettezza, signori Che scorrettezza È tornato Papa Maullo Che con la sua scorrettezza Riesce a far punti Ah, ah, incrocio, incrocio Abbiamo danneggiato la Abbiamo perso l'allettone anteriore, signori Prima Gran Premio Cambia strategia, ma che devi cambiare strategia Che abbiamo fatto già Ho perso l'allettone anteriore, signori Ho perso l'allettone anteriore, ottimo Però siamo, siamo unicesimi Siamo unicesimi, ottimo, ottimo La macchina non terrà più niente, la macchina non terrà più niente Però Dobbiamo tenere Oh, signori Allora, non vi potete lamentare di questa parte La partenza è stata ottima La partenza è stata ottima Stiamo anche andando bene Forse qualcuno sta fatta tappo E noi dobbiamo approfittarne in una maniera come se non ci fosse un domani Dobbiamo approfittarne come se non ci fosse un domani Siamo unicesimi, non portiamo punti a casa Se mai riusciremo ad arrivare in questa posizione Però, 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 cazzarola Dai Dai, dai, non ci torna il box Dai, 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 corri, 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 corri Abbiamo dietro Gasly e Vettel davanti Vettel era pure dietro se non ricordo male Ha recuperato tantissimo Vettel Dai, 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 ma annaggia Non abbiamo più l'allettone Quindi ste curve non riesco più a farle benissimo Dai, 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 dai Dai, 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 undicesimi Undicesimi, undicesimi Difendiamo la nostra posizione Dai, 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 dai Ritardo a fare la curva, mannaggia Dai, così, eccetera, eccetera In seconda uno si stanno avvicinando là dietro, signori Indietro si stanno avvicinando e non è un'ottima E non è buona come cosa Qua per forza vado sempre a fragole Ah, prena, 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 prena Bello così, dai, 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 dai Sottoscocca non è stato preoccupato Io mi preoccuperei di tutta la macchina Non so del sottoscocca Mamma mia, che curva brutta Gasly, Gasly, Gasly No, no, non ci provare, non ci provare Non ci provare, non ci provare Che tanto non ti faccio passare Oh Mi ha spinto fuori, signori Dico, che cos'è? Destruction Derby, quello è un altro videogioco La Gasly Siamo a giocare a Formula 1 Quello è un altro gioco Quanti cazzola di giri mancano Dai, dai, dai Undicesimo Dai, 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 dai Uh, uh Non so cosa è successo da dietro con Gasly Però abbiamo guadagnato un sacco Sì, 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 abbiamo guadagnato un sacco Dai, 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 dai Via, via, via Non ci vada il box Via, 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 corri Corri che inizia il terzo giro Di arresto abilitato Questo è gravissimo Questa è una brutta notizia, signori È una bruttissima notizia Il fatto che il di arresto sia stato abilitato è una bruttissima notizia Perché dietro di noi lo possono utilizzare Noi, no E questa è una cosa bruttissima Bruttissima Però abbiamo tre secondi di vantaggio al terzo giro Inizio dal terzo giro abbiamo tre secondi di vantaggio Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Con calma e sangue freddo Con calma e sangue freddo Continuiamo a guidare come abbiamo fatto finora Continuiamo a guidare come abbiamo fatto finora, signori Continuiamo a guidare come abbiamo fatto finora Dai, dai, dai Ovvero non buttando gli altri fuori Ma cercando di... Questa l'abbiamo fatta bene Questa finalmente è la prima volta e la facciamo bene Dai, 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 così Dai, così Dai, così Abbiamo perso quasi un secondo Però va bene, però va bene Dai, dai, dai Calma, calma, calma Calma, calma, è sempre freddo Calma, è sempre freddo Frena, frena, frena Bravo, immettila Bravo, così Dagli di... 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 Dai, 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 dai Dai, 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 dai Questi sul rettiline ci sverniciano questi Ci sverniciano malissimo No, non andare in testa coda Ricordo il primo campremio del 2000... No, mamma mia Abbiamo sbagliato completamente Ho tirato i freni lì che non andavano tirati proprio Primo campremio del... Nel 2022 Ricordo che ho... Sono andato a sbattere Nella curva E ruppi la macchina E ruppi la macchina E fu proprio il ritiro al primo gran premio Se quest'anno riusciamo a fare un dicesimo posto così subito Sarebbe tanta roba Ora, questo vuole il DRS Lo zio che sta venire a prendere il DRS Io aspetto che lui arriva in scia Mi sposto di qua Attivo la macchina al passo E te chiudo Sette porto proprio fuori Così Bello, tranquillo Levo questa E freno Ok Mannaggia A te A chi non te lo dice pure Mi ha fatto andare a lungo Però abbiamo difeso la posizione Inizia il quarto giro, signori Inizia il quarto giro Sono vicinissimi tutti e due Sono vicinissimi tutti e due Ma non puoi far Non lo puoi far Non lo puoi far Non lo puoi far Non lo puoi far Perché c'è strada curva Te devi Che? Ma ha distrutto la macchina Attenzione Che è successo? Io non c'entro niente Bandiera gialla Bandiera gialla Bandiera verde Non c'entro niente, signori Io Sto a far ritirare mezzo Mezza No, 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 no Non hai dove andare, zio Non hai dove andare Non hai dove andare Nell'incrocio mi può superare Dai, ecocido Tieni, non mi può superare 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 No, esterno non mi può superare Bandiera gialla Stiamo a distruggere Fuori, signori Avvertimento Collisione con Schumacher Abbiamo fatto ritirare Schumacher, signori Spettacolo Bellissimo Abbiamo fatto ritirare Non mi interessa Non mi interessa niente Non so se è comparso Lì sulla sinistra Ma non mi sono distrutto Aiuto Aiuto Allora, non abbiamo Una lettura Abbiamo una macchina Mezza distrutta Perché ho visto anche Dei danni nei fianchi Ovunque Però ci difendiamo Chi è il prossimo? Albon 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 mio Io ti consiglio Di starti dove stai Albon Io ti consiglio Vivamente di stare Ando stai Perché ti finisce male Pure a te Albon mio Albon mio Ti finisce male Io Te lo sto a dire Io te lo sto a dire Albon Albon io te lo sto a dire Allora lui mi arriverà a prendere la scia Bravo Sì, sì, sì Vieni, 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 vieni Non ce la fa Non ce la fa Vabbè Non ce la fa Abbiamo risparmiato l'hers Signori Per un prossimo attacco Oh Che siamo andati lunghissimi Siamo andati lunghissimi Dai così Ok Ci siamo difesi Ci siamo difesi Ci siamo difesi Tienilo Perfetto Lui verrà all'interno Ok Non ce lo teniamo Di bello Tranquillo Basta che non ci fa affa Testa coda Per noi Si può stare dove vuole Dai, dai, dai Curva a girare Curva a girare Curva a tornare Dai così Dai così Frena qui Ottimo Va bene così E l'ultimo giro Signori Ti abbiamo difeso La nostra undicesima posizione Frena 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 Non mi puoi fregare così Ok Ottimo Ottimo Teniamo la posizione Teniamo la posizione Teniamo la posizione Iniziamo a frenare Teniamo la posizione stretta Teniamo la posizione stretta Ok Signori Due macchine fuori Cioè Non due macchine Stiamo buttando tutti fuori Signori Stiamo buttando tutti fuori Va bene così Va bene così Va bene così Stroll Ancora Ancora un altro Un altro Che proverà a superare Papa Maullo Stroll No, no, no Stroll mio Non rompere le scatole Stroll mio Stroll Mancano due minuti e quaranta Alla fine della gara Ci riuscirà Papa Maullo A difendere la undicesima posizione Con il lunghe E con i denti Ci riuscirà Ci riuscirà Vediamo Ultima curva Ultima curva Attenzione Si inserisce No, no Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo No, no, no E siamo fatti fregare L'ultima posizione Da Stroll No Che ah Abbiamo buttato fuori Mezza Formula 1 E abbiamo perso L'ultima posizione All'ultimo G All'ultima curva Ma porca miseria Pilota del giorno Stroll E certo È stato l'unico Che è in grado Di superarmi Ci credo Pilota del giorno Stroll Ma porca Di una paletta Ambriaca Alla Mercedes Festeggiano Eh vabbè Dai Dodicesimi Eravamo partiti malissime Eravamo partiti malissime Arrivati i dodicesimi Va bene Io vi annuncio Che nel prossimo Gran Premio Diminuerò Da 58 Magari facciamo 56 56 Però dai Lian Lundson Arrivato il quattordicesimo Dai Ritirato l'università D'amico Che gli altri Sono arrivati tutti La Tisis È preso una penalità Così impara E va bene La Tisis Intanto questo Chi ha vinto Che non c'ho capito nulla Versa Penelere Che Stai Perfetto Va bene Andiamo avanti signori È andata È andata Mi è piaciuta Questa 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 prima gara Molto emozionante Abbiamo preso Tanti pei punticini Anche lui E la nostra fama Sale A livello 3 Perfetto Ottimo Va bene così Va bene così Dai Dai Spese danni Abbiamo distrutto Mezza macchina Però va bene Abbiamo guadagnato Qualcosina L'abbiamo guadagnata Qualcosina L'abbiamo guadagnata E questo è buono Questo Non è male Come cosa Non va sottovalutata Come cosa Perché non è Non è per niente male Non è per niente male Ce l'abbiamo fatta È andata bene È andata bene Dai Non ci lamentiamo Non ci lamentiamo Vai all'evento Reparto personale Questo è il reparto Di la tua esperienza Presente per la riunione Odierna Che è successo? Sta mostrando Un'ottima andatura Nel simulatore Dato che si trova In forma In che area In che area Possiamo allenarci Ritmo Riflessi Secondo il pilota Più 7 Più 7 Cerchiamo Di venire al ritmo generale Prego Pirelli Hot lap Attività Possiamo fare qualcosa Solo questo di un giorno Spot promozionale Il pilota Va bene E avanziamo Spot promozionale Il pilota Grand Prix Arabia Saudita Oh Sono arrivato in questo Facciamo salta Avanziamo Il weekend di gara Perfetto signori Detto questo Noi ci fermiamo qui E ci vediamo Prossimamente qui sul canale Per un nuovo video E continuare questa Questa stagione Formula 1 Che già Mi ha caricato tantissimo Bella raga Ciao Ciao